Un grande italiano, un grande toscano, ha scandito con i suoi film lo spirito del paese, il suo carattere. Io ho fatto anche riferimento nel mio intervento ad un'idea di modello sociale, non è un esclusivo politico questo, non ha nessuna esclusività. E quell'idea di un modello sociale che è cresciuto nel dopoguerra, basato sul lavoro, sull'impresa, piccola, media, sulle città d'arte, sull'artigianato, sulla tutela del paesaggio, io penso che quel carattere lì che poi Monicelli ha saputo interpretare anche nei suoi vizi contenga però tante energie e contenga una vocazione anche per il futuro che dobbiamo riscoprire nel secolo nuovo per rendere il paese più propulsivo e allo stesso tempo anche per continuare a tenere il paese inclusivo, bisogna che nessuno sia ai margini.